Sono 17 nuovi operatori di emergenza volontari della Croce Rossa di Caltanissetta. Il corso per operatori emergenza denominato Opem si è svolto nella sede operativa e formativa del comitato di via Piave dal 14 maggio sino al 29 maggio. 30 ore complessive tra la parte teorica e quella pratica in presenza che hanno preceduto l'esame finale. Una volta formati gli operatori hanno ora le competenze e la capacità di gestire situazioni di emergenza dovute ad eventi calamitosi naturali o generati da errori umani sul piano sia pratico logistico che psicologico. Il trainer emergenza è Angelo Montoro che ha maturato l'esperienza decennale nel settore dell'emergenza e della protezione civile. Al corso hanno collaborato in veste di docenti Antonino Miraglia, Pietro Messina, Sebastiano Vullo, Giuseppe Albini e la psicologa di infermiera volontaria Lucia Genco Russo, l'ispettrice delle infermiere volontari di Caltanissetta Sonia Bognanni, l'esperto Salvatore Sai, referente della Croce Rossa italiana di Buon Pensiere, l'esperto antincendio e anche volontario della Croce Rossa italiana Fabio Di Marmani. Dice il presidente della Croce Rossa Nissena, Nicola Piave, questo corso importantissimo servirà a rendere sempre più operativo il comitato di Caltanissetta nelle emergenze.